E' un'esperto, da quanti anni sei in questo mondo? Sono oltre 20 anni, ma è soprattutto la mia pignoleria del voler andare fino in fondo per avere le cose chiare. Quindi sicuramente di cosa ne avrai vista, aiuterai me e anche gli amici a casa a fare un po' di luce in questo mondo? Sì, è un mondo molto complesso dove è molto difficile fare chiarezza, cercheremo di fare questo sforzo. Ecco, ad esempio, che cosa succede quando i mercati vanno in crisi? C'è addirittura chi parla di panico, la parola è giusta? Sì, si parla di panico, si parla in maniera molto forte delle emozioni che si provano in certi momenti e in certi momenti i media facendo informazione contribuiscono ad alimentare questo panico, ma proprio in quei momenti dove c'è il panico lì ci sono le maggiori opportunità di guadagno. Ma non ci credo, ma spiegami come funziona. Allora, tutto si riconduce al mercato della domanda e dell'offerta, ci sono dei beni che possono essere acquistati e venduti, quando c'è una fortissima richiesta di qualcosa che cosa accade al suo prezzo? Il prezzo indubbiamente sale. Bene, quando c'è una fortissima offerta il prezzo scende. Bene, tu quando vorresti acquistare? Sicuramente quando costa poco. È quello che accade quando ci sono delle svendite, ma non accade in questo mercato. In pratica cosa succede? Che dovrei comunque sempre cercare di intuire quando il prezzo è basso e comprare lì? Nel momento in cui c'è la svendita che cosa fai? Vedi che il prezzo è più basso e ti accosti, nel settore finanziario c'è la svendita e si vede il deserto. Sì, ma è anche vero che spesso siamo influenzati dalle scelte che fanno gli altri. È verissimo questo. Allora io vedo gli altri che comprano e compro anch'io, vedo gli altri che vendono e vendo anch'io, ma se in tanti si compra, cosa accadeva prima quando c'era una forte richiesta? Sì, l'abbiamo visto, i prezzi salgono. Quindi in tanti compriamo, ma prezzi alti. Quando c'è una forte offerta in tanti vendiamo, ma proprio il fatto che noi siamo in tanti a vendere, fa sì che vendiamo sì, ma prezzi bassi. Quindi stiamo sbagliando sempre? Non è che stiamo sbagliando, ma la logica emotiva ci porta fuori strada. E questa è la logica emotiva. Poi c'è anche l'approccio di qualcuno che lo fa in maniera razionale. 100 è andato a 150, più 50%, cosa dico? È buono e quindi? Certo, quindi sto comprando. E quindi compro. 100 è andato a 80, meno 20%, non è buono e quindi che cosa faccio? Vendo. Ma nel primo caso tu compri dopo che è cresciuto e nel secondo caso tu vendi dopo che è sceso. E quindi anche qui è la stessa cosa. Allora sto facendo come prima, compro quando è alto e vendo quando è basso. Torniamo indietro di qualche anno, 2001-2002. Crollo delle borse per la bolla di internet. Arrivano i terroristi e tirano giù le torri a Manhattan. Crollo delle borse mondiali. Tutti vendono. vendono. Tutti vendono. Tutti vendono a chi? A chi compra. Necessariamente, non ci possono essere tutti vendono. Molti vendono a pochi magari che acquistano, ma necessariamente vendono a qualcuno che acquista. E addirittura c'è una visione opposta delle prospettive, perché chi vende lo fa perché? Perché pensa che scende ancora. E che cosa fa invece dall'altra parte chi compra? Pensa che salirà. Mi ha illuminato, è vero. Insomma, mi sembra di capire che spesso comunque siamo costretti a seguire una moda o l'umore di qualcuno. Fammi un altro esempio che possa farmi capire meglio tutta questa storia. Allora, facciamo un esempio della campagna. Devo decidere, i contadini devono decidere se piantare il grano oppure piantare il mais. Fanno un'analisi e vedono che in base ai prezzi dell'anno scorso è più conveniente il grano. Ogni tanti fanno questa scelta. Al momento di presentare il raccolto sul mercato che cosa accade? Che la quantità di grano è molto elevata e quindi il prezzo, se l'offerta è molto elevata, il prezzo è basso. Viceversa, i pochi che hanno seminato il mais riescono a averlo a un prezzo elevato, quindi pochi fanno l'affare. Quindi, scusa, stai dicendo che a volte andare in controtendenza si riesce in qualche modo a portare a casa un guadagno? Non è scientifico, ma molto spesso è sufficiente andare in controtendenza rispetto a quello che fa la massa per fare dei grandissimi affari. Senti, il tempo come al solito è pochissimo, anche perché gli altri ci stanno buttando fuori, però credo di aver capito due cose. Tutti comprano e tutti vendono, non è vero. C'è sempre una controparte ed è quella che può aiutarci a fare una scelta migliore. Dico bene? Esattamente. Ok, ci hanno tolto la linea. Grazie, arrivederci, alla prossima.